Buonasera a tutti telespettatrici, buonasera a telespettatori di Rossini TV, benvenuti sul canale attante del digitale terrestre. Questa sera abbiamo un ospite davvero molto stimolante, col quale già abbiamo fatto una bella chiacchierata prima di cominciare questa intervista, si tratta di Amerigo Varotti, direttore di Confcommercio Pesaro Urbino. Buonasera. Amerigo, abbiamo già spaziato su tantissimi argomenti, andiamo subito su quello che è ciò che ci sta a cuore, Confcommercio Pesaro Urbino, un'associazione di categoria che negli anni è cresciuta tantissimo, quando si arriva alla fine degli anni, ormai siamo a novembre di questo 2022, si tracciano bilanci, si dice ciò che si è fatto, ma il bello di chiacchierare con te è invece capire che soprattutto sono molto interessanti le cose che si faranno. Sì, è stato un anno 2022 molto impegnativo, anche molto difficile per diverse categorie di imprese e molto positivo per altre imprese. È un anno che a causa dell'aumento delle bollette energetiche e poi della guerra tra Russia e Ucraina, ma ricordo che le bollette energetiche sono aumentate molto prima dell'inizio della guerra, ha creato problemi enormi al mondo imprenditoriale, a tutto il tessuto economico del Paese e quindi con molte aziende in gravi difficoltà, aziende che hanno chiuso i battenti, aziende che hanno limitato o sono state costrette a limitare anche la produzione, perché poi l'effetto dell'aumento della bolletta energetica e aumento dei costi generali, aumento dell'inflazione ha fatto sì che tutto il mondo imprenditoriale abbia sofferto enormemente. Per quanto ci riguarda nel mondo della ristorazione, nel mondo del turismo, è stato un anno sicuramente positivo per i flussi turistici in aumento. Ricordo che, a meno i dati che abbiamo a disposizione fino a settembre di quest'anno, dicono che da gennaio a settembre c'è stato un aumento dei flussi turistici, un ritorno degli stranieri. Molto importanti, cifre davvero importanti. Cifre importanti che ci portano il dato degli arrivi delle presenze turistiche a quello del 2019, cioè degli anni pre-Covid. Però questi dati positivi poi vanno analizzati a fine anno quando andremo a confrontarci con i bilanci delle imprese, che sono stati ovviamente deturpati dall'aumento della bolletta energetica e dell'aumento dei costi. Quando in un ristorante si passa da 1.500 Euro di luce a 5.000 Euro o quando in un albergo si arriva a pagare 25.000 Euro contro i 5.000 che si pagavano precedentemente, è ovvio che è difficile quadrare i conti. Tanti albergatori della nostra provincia hanno anche pubblicamente dichiarato questa preoccupazione, cioè che l'aumento delle presenze turistiche poi non abbia portato dei benefici in termini di bilanci e quando poi i bilanci sono in sofferenza è difficile fare investimenti, è difficile riprogrammare il futuro. Quindi un anno... Double face potrebbe dire. Esatto, sì, con molte luci e molte ombre. È stato un anno difficile anche per causa degli effetti del nubifraggio di settembre che ha colpito alcune nostre comunità, alcuni borghi della nostra provincia. Penso a Cantiano, a Frontone, a Sera Santabondio, in parte anche a Cagli. Problemi enormi perché quando poi in un paese, in un borgo vengono messe in crisi le attività economiche, il commercio, il turismo, la piccola impresa manifatturiera c'è il rischio concreto che muoia nei paesi. Da questo punto di vista noi abbiamo appoggiato, stiamo appoggiando le amministrazioni comunali, in particolare che la di Cantiano, che hanno lavorato e stanno lavorando a fianco delle loro comunità. Mi viene da dire Amerigo, dal primo istante, voi siete stati davvero dal primo istante immediatamente sul pezzo per essere davvero vicino alla comunità. Noi immediatamente, io ricordo che quando è successo il nubifraggio, ero a Verona alla fiera del turismo, dove avevamo uno stand come Conf Turismo e lanciai subito da Verona una raccolta di fondi a favore delle piccole imprese di questi comuni. Il mio vice direttore si recò subito a Cantiano, proprio per dare una mano. Oggi stiamo seguendo gratuitamente per le imprese le pratiche per ottenere i contributi che la Regione Marche ha messo in campo, in attesa poi dei soldi più concreti che dovrebbero derivare da provvedimenti governativi. A giorni saremo di nuovo a Cantiano con i nostri dirigenti nazionali, ma questa raccolta di fondi a cui hanno contribuito anche alcune associazioni commercianti in giro per l'Italia e anche alcuni partiti politici, devo dire che in campagna elettorale Fratelli d'Italia ha fatto una raccolta di fondi che poi ci ha consegnato e che noi consegneremo direttamente agli imprenditori. Quindi è stato un anno, ripeto, in chiaro scuro, molte luci ma tantissime ombre. E' una grande preoccupazione per il futuro, perché la cosa grave, e qui so di dire una cosa che a qualcuno non piacerà, ma è che il governo precedente non ha fatto nulla. In questi temi sicuramente... Sul tema degli interventi a favore delle imprese, sulle bollette energetiche, ha fatto poco e nulla, a differenza di altri paesi europei. Si cita sempre la Germania, ma la Germania ha fatto un provvedimento molto semplice, facendosi carico dell'80% del costo delle bollette, che erano aumentate a causa della speculazione della guerra. E se ti ricordi bene, era stato addirittura criticato dall'Italia. E' stato criticato dall'Italia il fatto che la Germania avesse investito questa cifra. Noi invece in Italia abbiamo fatto molte chiacchiere. Il ministro della transizione ecologica Cingolani, del precedente governo, che purtroppo non ha capito per quale motivo è stato preso come consulente dal presidente Meloni, questo è un mistero glorioso, aveva dichiarato che c'era in atto una grande speculazione. Abbiamo pagato cittadini e imprese i costi della speculazione, ma ancora l'ex ministro Cingolani ci deve dire chi è che speculava, chi è che ha speculato. Probabilmente quelle aziende che hanno fatto extra utili, extra profitti paurosi, si parla di 40 miliardi di extra utili che abbiamo pagato noi, cittadini e noi imprese, e il governo ben poco ha fatto per questo. Anche a livello di confronto europeo mi pare che i risultati del governo Draghi siano stati nulli, perché al di là del compiacimento della stampa nazionale risultati non si sono visti. Quindi la preoccupazione è forte. La soddisfazione è che il turismo... E mi è piaciuto anche proprio come l'hai detto, Amerigo. Ti sei subito tirato su, hai parlato di soddisfazione cambiando espressione. Sì, la soddisfazione è che una delle attività economiche più importanti del nostro paese è il turismo, perché il turismo può essere la leva fondamentale di sviluppo dell'economia nazionale e dell'economia di una regione come le Marche, che ha tante bellezze, un ambiente in parte incontaminato, dal punto di vista gastronomico, culturale, eccetera. Il turismo sta riprendendo. Il turismo può essere veramente l'attività che incrementa lo sviluppo economico delle nostre comunità. A livello nazionale c'è stato un ritorno dei flussi turistici, anche dall'estero. Nella nostra provincia abbiamo superato i dati del 2019, quindi le previsioni sono ottime per l'anno prossimo. E di questo tema se ne parlerà il 18 di novembre, proprio quando ci saranno gli stati generali del turismo del Comune di Pesano. Sì, quello degli stati generali è sempre un momento importante di confronto tra gli operatori economici e le forze politiche e gli amministratori della città. C'è stato recentemente il confronto con gli stati generali di Fano, del Comune di Fano, adesso abbiamo gli stati generali del Comune di Pesano, che sono molto importanti anche perché ci avviciniamo con rapidità al 2024, l'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura. Pesaro è già capitale italiana della cultura, pertanto già tante iniziative sono state messe in campo per fare conoscere Pesaro forte di questo brand, di questo riconoscimento. Noi stessi abbiamo realizzato nel mese scorso a Verona un incontro per presentare Pesaro a capitale italiana della cultura. Era presente il vice sindaco Vimini e l'assessore al turismo del Comune di Urbino, anche perché, come è stato spiegato, Pesaro capitale della cultura è la provincia di Pesaro Urbino, capitale italiana della cultura. E qui fammi dire una cosa, Merigo, ci avete visto lungo da tanti anni, costituendo gli itinerari della bellezza, che cosa fanno? Danno proprio lustro all'intera provincia. Esatto. Il progetto itinerario della bellezza è stato una grande intuizione. Diciamolo, è stata una bella intuizione. Si può dire, no? Ecco, lo dico perché siamo partiti con cinque comuni, cinque anni fa, che hanno avuto il coraggio di affidarsi alla Confcommercio per le attività di comunicazione e di promozione turistica. I risultati sono stati positivi, con aumento dei flussi turistici, aumento dei visitatori, aumento degli ingressi nei musei. Oggi, a distanza di cinque anni, chiudiamo un anno con 16 comuni che hanno aderito a questo nostro progetto, ma altri due sono già entrati, quindi nel 2023 avremo 18 comuni, ma ci sono altri due comuni che sono vicinissimi alla definizione di questo accordo. Per cui arriveremo a 20 comuni, che è un risultato straordinario. Con questi progetti noi abbiamo portato la provincia di Peso Rubino, la bellezza della provincia di Peso Rubino, in giro per il mondo. Con tante iniziative di comunicazione, di promozione, partecipazione alle fiere, l'utilizzo massiccio dei social, dei blog, press tour, press tour con la stampa nazionale. Quindi abbiamo fatto veramente di tutto, utilizzando tutte le strategie del marketing turistico per valorizzare, promuovere questi comuni e cercare di ipotizzare uno sviluppo economico dei nostri territori, dei nostri borghi, in maniera particolare, legata alla valorizzazione della nostra bellezza. La bellezza non è solamente il bel palazzo, la bella chiesa, i torricini di Urbino, no. La bellezza è l'insieme del nostro modo di vivere, è la qualità della nostra offerta enogastronomica, l'accoglienza, l'ospitalità, è un ambiente per gran parte incontaminato, sono le attività outdoor che si possono svolgere sul territorio e la nostra gastronomia, cioè la bellezza, che quando abbiamo iniziato a parlarne qualcuno rideva, ma si sono inventati la bellezza. Poi abbiamo visto che anche interventi prestigiosi dal Presidente Mattarella a molte riviste quotidiane, addirittura ci sono dei quotidiani che hanno fatto dei meeting proprio per ragionare di bellezza, quanto la bellezza può influire sullo sviluppo economico. Quest'anno è stato un anno importante da questo punto di vista, perché abbiamo realizzato tante iniziative. Fra le quali proprio di freschissima presentazione è l'itinerario della musica. Sì, questa mattina abbiamo presentato a Saltara, di Colli al Metauro, nella chiesa del Gonfalone, l'ultimo nato, che è l'itinerario musicale nella provincia di Pesorubino, dice che c'entra la musica. La musica è la bellezza, anche la musica fa parte del nostro patrimonio, qualcuno dall'estero direbbe l'Italian lifestyle, il modo di vivere. In ogni paese del nostro itinerario della bellezza, quindi nei 16 comuni, ci sono tante realtà musicali importanti che da una parte rappresentano il collante di una comunità, la banda, il coro, le attività che si svolgono musicali, che si svolgono un po' in tutti i comuni. Dall'altra ci sono eventi importantissimi dal punto di vista turistico perché smuovono l'interesse di tanti appassionati. Ovviamente si parla del Rossini Opera Festival, ma si parla anche del Fano Jazz, si parla della musica antica di Urbino, si parla di tante iniziali. Penso al museo della batteria di Fano, cioè noi abbiamo una chicca, certo prende una nicchia di mercato, ma abbiamo un museo dedicato alla batteria con batterie storiche di Rolling Stones, Beatles, Yahoo, eccetera. E poi mi viene da dire Amerigo, tutto quello che stai dicendo si racchiude peraltro veramente in quello che è successo non più tardi di dieci giorni fa ad Aqualagna, col concerto dedicato alle comunità che sono state colpite dall'alluvione, che hanno visto coinvolti decine di cantanti, di musicisti della nostra provincia che hanno raccolto fondi, quindi davvero in uno spirito, come possiamo dire, assoluto di condivisione e di intenti. Certo, e questa è la forza della nostra comunità. Noi abbiamo dedicato questo itinerario musicale a Pesaro, capitale della cultura 2024, e a Pesaro, città creativa UNESCO per la musica. abbiamo anche anticipato questa mattina una nostra decisione per il prossimo anno, visto che si parla anche di programmi, di avvicinarci ulteriormente a questa data del 2024, realizzando un evento legato alla musica e legato a un grande personaggio pesarese che a nostro modo di vedere è stato poco valutato, devo dire, ampiamente sottovalutato, che è Rizzo Ortolani. Rizzo Ortolani pesarese, vincitore anche dell'Oscar, del Grammy Award per la musica, con More, una colonna sonora di film importanti da sorpasso con Gasman e Trentignano. E permettici di salutare la figlia, che è una nostra grandissima fan, che ci segue sempre su Rosini TV, sui social, quindi è davvero un nome che tirare fuori fa emozione, fa emozionare. E quindi noi il prossimo anno abbiamo deciso di realizzare una serie di eventi a Pesaro, Fano e Urbino. Abbiamo già ovviamente contattato direttrice d'orchestra per fare degli eventi dedicati a Rizzo Ortolani. È un modo anche questo di avvicinarci a Pesaro Capitale della Cultura 2024. Ma in questo itinerario musicale, che ripeto è l'ultimo prodotto del 2022, abbiamo fatto l'itinerario del silenzio e della fede, abbiamo fatto l'itinerario dedicato a Federico da Montefeltro nei 600 anni dalla sua nascita, collegato poi ai percorsi di Giovanni Santi, padre di Raffaello e di Francesco di Giorgio Martini. Questo ultimo nato è il risultato di un impegno costante. L'itinerario della bellezza non è una guida, noi facciamo una guida bellissima, ormai è diventata una Bibbia perché sono più di 200 pagine, il prossimo anno ovviamente saranno… Tutti non vedono l'ora di avere in mano l'edizione nuova. Esatto, però è una serie infinita di attività, di comunicazione, pubblicità, riviste, trasmissioni televisive anche a livello nazionale, all'estero partecipazione alle fiere. In questi giorni c'è in corso la fiera del turismo a Londra, il WTM di Londra, ma una delle riviste più prestigiosi che sta girando negli stand dei WTM, c'è un'intervista a sottoscritto dove parliamo della bellezza del nostro territorio. Quindi queste tante attività portano il consenso da parte dell'amministrazione comunale, da parte delle imprese e stiamo già veramente realizzando e pensando a tante iniziative da fare nel 2023. Ovviamente ci sarà… Poi leviamo qualcosa. Sì, ci sarà. Proprio velocemente. Di Rizzo Artolani abbiamo detto, quindi questa iniziativa. Ci sarà la nuova edizione della guida di Tena della bellezza che presenteremo a febbraio alla BIT di Milano insieme al nuovo prodotto che è l'itinerario sul mototurismo, cioè le attività outdoor stanno andando fortissimo. Puoi parlare di moto in questi giorni, come sai, Pesaro sta proprio ribollendo di felicità. Sì, Pesaro è Tavuglia. Pesaro è Tavuglia. di Tavuglia appunto di avere tra i propri cittadini personaggi importanti, insomma da Valentino, Luca Marini, Franco Morbidelli. Quest'anno è stato un anno poco fortunato per Morbidelli, ma dato che noi abbiamo il fan club di Morbidelli in commercio, bisogna ricordare. Adesso Bagnaia, che ovviamente era alla scuola, all'Academy di Valentino, quindi anche lui cittadino di Tavuglia, diciamo, Pesaro, mi pare di aver sentito che il sindaco vorrei proporre la cittadinanza onoraria. Quindi presenteremo alla BIT anche l'itinerario del mototurismo, che è già pronto. Sono questi 15 itinerari fatti in moto, tre per ogni provincia, delle marche. Poi realizzeremo una nuova edizione dell'itinerario archeologico. Quest'anno non abbiamo potuto realizzarla. Abbiamo partecipato dieci giorni fa alla Borsa del Turismo archeologico di Pestum. Non abbiamo potuto presentare una nuova edizione dell'itinerario archeologico, ma l'abbiamo andato con quella fatta a fine anno, l'anno scorso, perché il nubifragio ci ha impedito con il Comune di Cantiano di portare a termine il lavoro che stavamo facendo per inserire anche il Comune di Cantiano. Tra l'altro, devo anche dire che inaugurandosi a dicembre il Museo Oliveriano di Pesaro, la nuova edizione dell'itinerario archeologico, ovviamente sarà completamente rivisitata alla luce dell'inserimento di Cantiano e San Lorenzo in campo e del Museo Oliveriano di Pesaro. Fantastico, peraltro, che sarà in un luogo magnifico con dei reperti straordinari che davvero pochi di noi conoscono in realtà. Sì, e poi stiamo immaginando di realizzare una seconda edizione dell'itinerario del silenzio della fede, perché facendo la prima edizione ci siamo accorti dell'immenso patrimonio artistico e culturale di tante nostre chiese. Ne abbiamo inserite una ventina, ma ovviamente c'è molto da fare, molto da lavorare. E poi faremo l'itinerario dei teatri storici. Altro elemento che caratterizza un po' la nostra comunità marchigiana è avere tanti teatri storici e non a caso anche recentemente la Regione Marche ha preso l'iniziativa di proporre la candidatura dei teatri storici delle Marche per come riconoscimento UNESCO. A proposito di Regione Marche, ci avviamo alla conclusione. Ma avevi detto prima che il 6 dicembre sarà una data da segnare sul calendario perché ci sarà un momento importante con la Regione Marche. Sì, noi realizzeremo il 6 dicembre la seconda convention dell'itinerario della bellezza, cioè un momento in cui con il Presidente Acquaroli, con assessori, amministratori regionali e gli amministratori di tutti i comuni che partecipano all'itinerario della bellezza, quindi sia quelli, i 16, che gli altri nuovi, faremo un po' il punto della situazione, un piccolo esame dello stato dell'arte, insomma, quello che abbiamo fatto, quello che vorremmo fare, gli impegni anche da parte delle istituzioni pubbliche, a cominciare dalla Regione. Tra l'altro la Regione quest'anno ha attivato, è partito, un po' ancora in sordina, la nuova Agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione. che è stata presentata a Rimini circa un mese fa, e ancora noi non siamo riusciti a intervistare il direttore di questa agenzia perché ci disse che in quel momento ancora non voleva essere esposto pubblicamente. Beh, lui sarà con noi, Marco Bruschini, vecchio amico. E ne approfitteremo, quindi. Vecchio amico di vecchia data, e quindi faremo questo confronto, ma soprattutto vogliamo ribadire, e ribadiremo in questa, ancora la sede non l'abbiamo individuata, tra Pesaro e Gabice Mare ancora dobbiamo decidere, con il Presidente Acquaroli ovviamente, ribadire l'importanza di un progetto come questo, che non voglio offendere nessuno nel dire che questo è un progetto unico. Non si è mai riusciti nella nostra provincia a mettere in rete così tanti enti locali, tante amministrazioni, per fare un progetto concreto di sviluppo turistico, perché di progetti si sono fatti tanti. Qualcuno direbbe chiacchiere e stufo. Tanta teoria. Eh, tanta teoria. Noi l'abbiamo messa in campo, noi l'abbiamo realizzata, la stiamo realizzando, assumendo addetti stampa, potenziando il nostro ufficio di comunicazione e immagine, realizzando video, facendo fiere, e i risultati ci sono stati, perché l'aumento delle presenze turistiche anche nei comuni dove gestiamo, ad esempio, i musei, dove gestiamo gli uffici di informazione, sono stati notevoli e consistenti. E quelli sono fatti, quelli sono numeri. Quelli sono fatti concreti e il fatto che ci sono sempre nuovi comuni che decidono di entrare nel nostro percorso, sta a dimostrare che il lavoro è stato fatto bene, lo stiamo facendo bene. A questo proposito, Amarigo, e concludiamo, io sento comunque una grande nota di orgoglio e di piacere per quello che tu hai realizzato negli anni, con tutta la tua squadra e con tutti quelli che seguono ConfCommercio nelle sue iniziative. E quindi è un elemento che, secondo me, è da sottolineare, perché poi dopo la storia parla. È la storia che parla, no? Sono i fatti, come abbiamo detto. Quindi tu, sono tanti anni che segui questa associazione di categoria, mettendoci tutto te stesso. E l'hai vista cambiare, hai visto quello che è successo nel tempo, come sono evolute le cose. Cosa ti sentiresti di dire proprio, così, come tua impressione personale, tua sensazione, questi anni, quello che è stato e magari anche quello che sarà? Ma sai, io è dal primo gennaio 1986 che faccio questo mestiere. E' cambiato il mondo. I mondiali del Messico, tanto per dirti. Il gol di mano di Maradona, ecco, per dare un'idea temporale. E' cambiato il mondo, è cambiato il modo di fare associazione, sono cambiate le imprese. Purtroppo lo sviluppo economico, determinato anche da un'accentuata liberalizzazione, ha fatto sparire un tessuto economico importantissimo, fatto di tante botteghe, di tanti negozi. Purtroppo la desertificazione di molti borghi, di molti paesi, ma anche di quartieri delle nostre città, ha stravolto il mondo. L'esplosione dell'e-commerce con un mercato dove non ci sono le stesse regole, dove il grande ha le carte buone da giocare e al piccolo, il piccolo commerciante non viene adeguatamente valorizzato. Noi siamo tra coloro che chiedono una legge speciale per i negozi di vicinato, perché la caratteristica vera del nostro paese, dell'Italia, è di avere le piazze, di avere i quartieri, di avere i piccoli negozi che animano la vita delle nostre comunità. dove sono spariti i piccoli negozi è morta la comunità, è morto il piccolo paese, abbiamo tanti paesi senza più nemmeno un negozio che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Quindi il mondo è cambiato e anche le associazioni ovviamente sono cambiate. ConfCommercio sempre di più ha potenziato i servizi a favore delle imprese, sempre di più sta lavorando a fianco anche delle amministrazioni comunali per cercare di dare servizi, di aiutare il mondo dell'impresa, anche con nuove forme di consulenza. Penso il 21 di questo mese noi faremo un convegno da noi per parlare di comunità energetica, alla luce anche dell'aumento dei costi delle bollette, dell'attenzione sull'ambiente. L'indattazione sull'ambiente che per noi è diventato fondamentale, il consumo del suolo, il risparmio energetico. Faremo questo convegno anche per dare consulenza, un aiuto alle imprese oltre che alle amministrazioni comunali per ragionare di questa formula della comunità energetica che può aiutare a contenere i costi. Quindi siamo cambiati molto, abbiamo però mantenuto la nostra caratteristica di essere un'associazione vicina alle imprese. Noi abbiamo 16 uffici sul territorio provinciale. A me fa ridere quando sento anche sulla stampa dire che bisogna fare una struttura regionale. Un'associazione come la nostra ha bisogno di essere vicina alle imprese, sul territorio. La capillarità sul territorio. Perché l'abbiamo visto anche con il nubifraggio, le piccole imprese, i commercianti di Cantiano che ci hanno chiamato per essere aiutati perché volevano sentire la vicinanza della loro associazione. E l'abbiamo fatto perché c'eravamo. Quindi abbiamo mantenuto questa rete. Abbiamo potenziato molto in questi anni l'attività legata alla formazione professionale creando una struttura Forma Conf che è tra le migliori in Italia e portata veramente come punto di riferimento a livello nazionale. Quando io vado a Roma a sede della nostra della società di confcommercio nazionale che si occupa di formazione cioè è il presidente, in quel caso sono presidente è il presidente di Forma Conf è una delle eccellenze assolute. E facciamo formazione 365 giorni all'anno insieme poi ad altri enti abbiamo creato l'Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le Nuove Tecnologie che è uno degli ITS della Regione Marche l'unico ITS del Turismo della nostra Regione e anche lì facciamo corsi di alta specializzazione corsi biennali con quasi l'80% di occupati al termine... Di cui peraltro di questi corsi si vedono spesso gli avvisi, la cartellonistica in giro per le nostre città. Certo, ma poi questi ITS prima non ne parlava nessuno poi ne ha parlato Draghi all'insediamento del suo governo poi all'improvviso sono diventati uno strumento eccellente. Ecco, noi lo abbiamo già da alcuni anni. Allora, Amerigo, ti faccio un suggerimento chiudiamo qui la nostra chiacchierata un suggerimento. Perché non scrivi un libro? Tutti scrivono libri tutti scrivono libri e raccontano perché non scrivi un libro nel quale davvero metti a disposizione questa tua storia questa tua esperienza questa tua capacità per la comunità? Chiaramente la mia è una battuta però mi piacerebbe. No, avere tempo, sì, magari ho visto che qualcuno recentemente l'ha pubblicato e presentato sì, sarebbe una bella cosa raccontare anche la storia delle riunioni che facevamo una volta con il pienone di commercianti che avevano bisogno di sentire l'associazione oggi sono cambiati i modi perché oggi ci sono molti strumenti di comunicazione però è rimasta inalterata questa vicinanza tra l'associazione e le imprese e a proposito di libri devo dire con amarezza che la prima cosa che devo fare quando avrò un po' di tempo è completare l'ultimo libro che aveva scritto mio padre che quando è morto aveva un libro non completato e i miei fratelli diceva Amerigo questo bisogna che lo completi te bisogna che lo porti a termine te e purtroppo ancora non ho trovato il tempo di fare E allora senza volerlo abbiamo detto una cosa che invece è molto interessante grazie Amerigo Barotti è stata una chiacchierata davvero gustosa permettimi di dirlo ci siamo anche divertiti e questo è un aspetto molto positivo grazie ancora per la tua presenza nei nostri studi ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito fino adesso e auguriamo tutti una buonissima serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti